Siamo con Luca Montcalieri, ecco una vittoria meritata, un passaggio di rotturo meritato, una partita perfetta Sì, abbiamo vinto fortunatamente, abbiamo giocato abbastanza bene, l'avversario era tosto, lo sapevamo in casa loro Era una finale, quindi le finali non si sa mai, insomma, è tutto possibile Ce l'abbiamo fatta noi, sono contento e niente Va detto che un'ottima organizzazione difensiva, un atteggiamento giusto, io ho contato solo un contropiede subito, due contro uno proprio alla fine E quindi forse è stata questa la chiave Sì, certo, oggi abbiamo curato molto l'aspetto difensivo, infatti faccio i complimenti a tutta la mia squadra E veramente, ognuno ha dato il 100% e basta, adesso ci riposiamo un po' per le vacanze di Natale Poi a gennaio partiremo con il campionato e basta, questo Complimenti ancora Grazie mille Buona serata